Io sono sceso ora dal campetto, sono alla Spaloma, ma questa è una segreta, va oltre di vedere una briocia tutta la rovescia, le montagne fanno paura, ma no paura, paura, spavento, da qui se guardo di sotto vedo 400 metri di popolo. Mamma mia, guarda qui, alle canarie, stava preso, stava preso fuoco l'altro giorno tutto e poi la mia moglie è venuta venuta in fabbrica, ha detto che la sua persona è andata davanti a me, un'istitamento di vita anche, va oltre, no, è il momento che non si può essere, ma non si può essere, ma non si può essere, ma non si può essere.